Fervore di opere ed iniziative in Africa orientale italiana, visione panoramica della zona di Zebelat, presso Adi Ungri, dove lavorano attivamente fornaci di calce alimentate dalle cave locali. Visioni panoramiche della zona di Aregit a Zerna, con l'imbocco della prima galleria di prospezione dei vasti giacimenti affiorenti di lignite, Picea, rivelati anche agli occhi di un profano dalla natura delle rocce. Grazie a tutti.